Viva l'amore, viva la solidarietà. Ha funzionato bene fino a questo momento la macchina solidale per la piccola Iaia, la bimba di Roccaraso che tutti stanno aiutando per realizzare il suo sogno. La raccolta fondi Ollus ha raggiunto la soglia dei 400 mila euro, vale a dire la metà dei soldi che servono a Iaia per affrontare il suo viaggio. Per i primi di gennaio bisogna raddoppiare gli sforzi, i contributi, i gesti di beneficenza, mentre molti compiono un respiro di sollievo e ora è il momento di premere sull'acceleratore. Questa sera e domani al teatro comunale Maria Caniglia di Sulmona tornano in scena gli strionici con il loro musical La Bella e la Beste e la Rosa Magica. In compagnia di Michelle Altieri mentre tenteranno di bissare un successo, parte dell'incasso delle due serate sarà devoluto proprio la raccolta fondi per Iaia. Weekend solidale anche a Pacentro dove da domani partirà la prima edizione dei mercatini di Natale. Un'ampia vetrina di arte, artigianato, prodotti tipici, decoupage e tante peculiarità che approderanno all'Expo di Milano 2015. Al centro della Due Giorni anche qui la piccola di Roccaraso. Per lei non mancheranno salvadanai per raccogliere le offerte. Per coloro che volessero contribuire intanto a versare il proprio contributo tramite bonifico bancario ricordiamo i riferimenti. Banca di credito cooperativo di Roma. Iban IT 54 S0 83 27 40 75 00 00 00 00 01 500